benvenuti benvenuti cari amici siamo bt questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il botone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche nel diagram andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo su bitcoin in questo preciso momento 28.606 dollari nella notte addirittura abbiamo raggiunto i 29.200 dollari andando a superare quella che era la vicaria di stenza dei 28.800 dollari sancita dal salvataggio di mega sailor avvenuto il 28 luglio del 2021 quindi beat da qui potrebbe prendere e ancora andare su noi stavamo guardando quest'area più in particolare lo vediamo chiaramente sul giornaliero area compresa tra i 25 scusate 26.5 e 28.8 abbiamo l'8 e dal mio punto di vista ora potremmo andare ancora letteralmente su perché? perché se andate a guardare le RSI guardate qui siamo proprio andati in zona supporto quella famosa zona supporto che poi proiettò nuovamente bitcoin a di alzo quindi potremmo vedere ancora un rally a parte i bit sì più in particolare io mi aspetto l'ultimo rally che avrà da parte delle alcuni ovviamente non sono né così finanziare né così trading ma io vi dico sempre quella che è la mia idea quindi andiamo a vedere anche quello che sta venendo su weekly vedete che qui abbiamo ancora un po' di spazio per raggiungere il livello di 70 vi ricordo il livello di 70 che poi decretò a partire dal 8 novembre del 2021 letteralmente la discesa a parte i bit e inizia il bear market quindi potremmo vedere un qualcosa di simile potremmo andare a prendere i 30k ok come vediamo siamo chiaramente esposti in questo momento e poi prendere e andare nuovamente giù quello che potrebbe letteralmente sancirci ok la fine di questa mini buran tra virgolette all'interno di un bear market potrebbe essere proprio innesco di un alco insiso finale se andiamo a vedere anche quello che è avvenuto ok a livello reale perché sulla banca centrale di francoforte è stata proiettata letteralmente a figura di bitcoin sta di bitcoin iniziate a studiare bitcoin scrivetelo anche a scuola da parte di vostri figli e dopo se andiamo a guardare nel corso del tempo la ricerca in bitcoin è un po aumentata perché siamo passate il 19 livello di 19 fino a un massimo di 28 quindi veramente tanto ok sul brevissimo ma ora andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo sulla bitcoin dominance perché siamo vicinissimi alla resistenza dei 48 e 43 che secondo me andremo a prendere quindi potremmo vedere ancora un po di forza di bit da parte sull'alcoin e dopo da questo punto potrebbe letteralmente iniscarsi l'alcoin season ovviamente eccolo qua lo vediamo che chiaramente da parte della crypto della market cap abbiamo resistenza 1.17 quindi potrebbe decretare proprio il raggiungimento di bit dei 30 mila dollari ok questa resistenza e poi prendere e andare nuovamente giù che cosa potrebbe avvenire letteralmente? che parte dei capitali che sono arrivati su bitcoin ora inizieranno a spostarsi sulle alcoli e ovviamente vi ricordo che c'è anche la super gara di trading in questo momento su bing ex al primo posto addirittura andranno 1000 dollari bonus USDT come vedete sto partecipando anch'io al momento sono in perdita ma assolutamente tornerò quindi se anche tu non l'hai fatto iscriviti con il refera link che trovi sotto in descrizione di bing ex è iniziato a dare perché i premi sono qui quindi inizia inizia perché se no non va bene non va assolutamente bene poi andiamo a vedere quello che sta avvenendo sull'alcoin index in questo momento siamo a 22 in ultimi 90 giorni siamo a 4 sui mensili e quindi assolutamente mi aspetto la risposta da parte dell'alcoin interessante anche l'annuale eravamo arrivati a 18 dopo la risposta ieri da parte dell'alcoin che abbiamo visto in particolare un XRP che è letteralmente volato andrò a vedere ora quelli che sono le principali notizie potremmo vedere nuovamente una di lì a parte dell'alcoin? io sto dicendo di sì però ovviamente io non è che ho la conoscenza divina però questa è letteralmente la mia idea ditelo anche voi questa è letteralmente la mia idea andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo su Ripple prezzo addirittura di 0.54 guardate qui che quello che in questo momento addirittura ha capitalizzazione di 27,4 miliardi quindi vedremo se Ripple sarà il futuro ok delle banche e potrà Ripple vincere a causa contro la SEC? secondo alcuni sostenitori Ripple potrebbe presto ok letteralmente vincere questa causa in aggiunta abbiamo avuto un più 49% guardate qui nell'ultime due settimane è veramente una cosa devastante guardate quanto siamo esposti anche sul settimanale addirittura 14 giorni più 55% veramente pazzesco l'inesco che ha avuto Ripple vi ricordo recente oltamai pari a 1,95$ registrato il 12 aprile del 2021 quindi siamo circa a un 25% rispetto a quel oltamai potremmo avere ancora livelli di nesco molto alti? vorrei mostrarvi ok quello che avvenne a partire il 16 novembre 2020 quando Ripple arrivò dai 25 centesimi fino ai 78% ed è questa è la la che sto osservando in questo momento sui Ripple in caso di esplosione di un alco in season tra l'altro guardate il giornaliero siamo chiaramente esposti quindi ora secondo me ci sta un piccolo scarico per poi prendere e andare nuovamente su dove sto tradendo io Ripple? ovviamente su Bitgett trovate sotto il link in descrizione avete 20% di sconto sulle trading fees e ovviamente qui se volete potete anche utilizzare le R ma state molto ma molto attenti perché potete farvi male quindi piano piano impariamo e andiamo a tradare ora andiamo a chiudere con Shiba Inu in questo momento siamo al 1.061 buono Shiba sta tenendo comunque 1.000 capitazione di mercato di 6,2 miliardi c'è stato anche il lancio del nuovo Twitter da parte di The Shibosis che praticamente rappresenta gli NFT di Shiba Inu su OpenSea o su Magic.ly o su qualsiasi platform marketplace quindi molto meglio bene questo per l'ecosistema di SHIB e soprattutto ora c'è l'inizio del nuovo metaverso di Shiba Inu quindi vedremo che cosa comporterà tutto questo ovviamente mi aspetto anche qui nuovamente un Sky Rockets da parte di Shiba Inu molto ma molto interessante ovviamente dove sto trovando io Shiba Inu su BingX trovate sotto i link in descrizione infine andiamo a chiudere con Terrellino Classic anche qui la giornata ieri c'è stato un mini pump oggi piccolo scaricchino ci sta prezzo terminale di 1.225 secondo me anche questo è un alcuni assolutamente attenzionale in questo momento soprattutto abbiamo avuto anche la notizia dell'arresto ok in Montenegro la parte di Donau e tra l'altro gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno chiesto l'estradizione quindi vedremo che cosa succederà a Donau che aveva addirittura falsificato i documenti vi ricordo che lui poi dopo Terrellino Classic ha creato un altro progetto Luna 2.0 che come vedete era letteralmente anche pilotato guardate qui addirittura ha fatto cose devastanti del 1 settembre al 12 settembre il 500% quindi manipolazioni di mercato assurde ora con l'arresto che cosa potrebbe avvenire potrebbe fallire il progetto potenzialmente sì Luna 2.0 in questo momento ha un prezzo di 1.28 mentre per quanto riguarda LUNC al momento ok siamo chiaramente decorrelati da Donau e infatti c'è stata una piccola disposta più in particolare siamo proprio sul supporto quindi può essere interessante traare LUNC in questo momento dal mio punto di vista direi proprio di sì fine in molti ci dicono che le cripto sono rischiose però andiamo a vedere quello che è venuto che è su una delle principali banche degli Stati Uniti la Silicon Valley Bank che praticamente è stata la ASA a zero per cui fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate nei commenti e ovviamente se anche tu vuoi conoscere il protocollo del cripto ti ricordo che puoi prenotare l'autocollo gratuita per trovare quel prodotto che magari può fare per te e può migliorare le tue skills all'interno del mondo cripto e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di sugi votare in like iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista hombre e